Finte donazioni per milioni di euro transitate su conti offshore intestati a Monsignor Nunzio Scarano e sequestri che interessano anche la Banca Vaticana. All'alto prelato, ex contabile dell'Apsa, l'istituto che si occupa di amministrare il patrimonio della Santa Sede, è stata notificata una nuova ordinanza di custodia cautelare, su richiesta del GIP di Salerno. Scarano si trova già agli arresti domiciliari dal giugno del 2013 ed è sotto processo per aver tentato di far rientrare in Italia 20 milioni di euro depositati illegalmente in Svizzera. Questa volta l'accusa è di riciclaggio e falso. Come risulta dall'inchiesta della Guardia di Finanza, Monsignor Scarano avrebbe chiesto ad una sessantina di persone di compilare assegni circolari da 10.000 euro per saldare dei debiti immobiliari. In realtà il denaro sarebbe servito per coprire un'operazione di riciclaggio, tanto che al momento della donazione i benefattori avrebbero ricevuto la stessa cifra versata in contanti. La Guardia di Finanza del Nucleo di Polizia Giudiziaria di Salerno ha notificato una richiesta di arresto anche ad un altro sacerdote e il divieto di esercizio della professione ad un notaio.